Buongiorno, buon sabato mattina, ben alzati e soprattutto ben ritrovati. Questa è la rassegna stampa, occhio ai giornali che tutte le mattine alle 7.30 va in diretta e che vi fa vedere le principali notizie sui quotidiani in edizione locale. Tutto è pronto e noi però procediamo con ordine, santo del giorno e poi le previsioni del tempo. Oggi San Pio V Papa, il sole è sorto alle 6.01 e tramonterà alle 20.10. Previsioni del tempo, guardiamo quelle di oggi, sabato 30, il cielo è sereno e poco nuvoloso, debole attività cumuliforme, c'è possibilità di isolati piovaschi pomeridiani sui sibilini. Quindi vedete nelle zone interne, nelle basse marche c'è la simbologia della pioggia, per il resto metà sole e metà nuvole. Vediamo domani il giorno di festa, il primo di maggio, il cielo è nuvoloso, è molto nuvoloso. Vedete pioggia su tutta la regione, doppie nuvole, nessun spiraglio di sole, inizialmente debole diffuse, però saranno più insistenti, aumenteranno prevalentemente a carattere di rovescio, di temporale. Dalla tarda mattinata in poi, quindi temperature minime in aumento, ma le massime sono in diminuzione, anche il mare è molto mosso per la giornata di domani. Le previsioni per lunedì non migliorano certamente, come potete vedere, anzi il mare si ingrossa ancora di più, piogge molto nuvoloso, attenuazione di copertura nel pomeriggio. Per lunedì precipitazioni rovesci, temporali diffusi, insomma veramente un fine settimana e un inizio di settimana all'insegna del maltempo. Questo è, non ci possiamo fare nulla, almeno queste sono le previsioni della protezione civile delle marche. Iniziamo a vedere i giornali, le pagine, iniziamo dal Corriere Adriatico, nella pagina che apre l'inserto locale. In testa si parla di ospedale, si ritorna a parlare di muraglia, ci rilancia questo sito, nosocomio unico, però Ricciatti dice il codice boccia Fosso Seiore, e intanto sit-in a Fano per questa vicenda, si riferisce naturalmente alla raccolta di firme. Poi in basso si parla di Fano, la polizia sgombera e il dormitorio abusivo nel quartiere silenziale Trave, i raid di ladri nella scuola, nell'asilo del Manfrini, allarme delle mamme, poi Unione Fossombrone, qui un lancio di politica, Chiara Billi, ecco tutti i nomi della sua lista. E allora vediamo nelle pagine interne dell'inserto Pesaro, vediamo Pesaro, vi dicevo Lara Ricciatti chiede un po' i conti alla Regione, vuole sapere se ci sono i fondi pubblici, l'ospedale unico torna in discussione e l'onorevole Ricciatti dice il codice degli appalti, però boccia questo progetto, vedete nella foto più o meno una rappresentazione di dove e come dovrebbe venire. Poi in testa di pagina appunto c'è la pubblicata lancia che è stata lanciata anche ieri pomeriggio, Ricci rilancia Muraglia, sito di maggior buonsenso, queste le sue parole, ha annunciato anche un dossier su case bruciate che dice è speculare a chiaruccia e critica anche la raccolta di firme a Fano. Vediamo anche appunto la pagina di Fano con questo episodio che è avvenuto ieri sera, appunto la consegna brevimano delle firme raccolte per il referendum, il primo cittadino era presente in piazza, come avete anche visto nella nostra diretta e appunto Carlo De Marchi, primo firmatario di questa iniziativa, ha consegnato le oltre 4.000 firme al primo cittadino, consegnate proprio nella serata di ieri, quasi 300 in piazza, quindi insomma c'è stata attenzione, è proiettato anche un video con le voci insomma dei fanesi e la tutela del Santa Croce, scelta di campo appunto contro l'ospedale, l'ospedale unico. Continuiamo nelle pagine che riguardano Fano, c'è stato appunto il blitz nella casa della zona Trave, dormitorio abusivo, ha lanciato l'allarme dai residenti, arrivano due volanti della polizia e sette uomini. E allora, video sorveglianza al Manfrini, era l'altro lancio che c'era nella prima pagina, raid notturni, l'impegno dell'assessore Mascarin, mamme vanno in consiglio su un sentiero di guerra e quindi insomma per orare questa cosa e Santorelli chiede un vigilante, un vigilante per monitorare la zona. Apriamo la pagina di Senigallia che sempre vi facciamo vedere, primo maggio appunto qui in testa di pagina Sagre e escursioni naturalistiche, naturalmente tempo permettendo, come abbiamo visto, torna la zona 30, si parla di multe, multe naturalmente che iniziano a preoccupare quanti si recano nelle zone adibite al turismo e ai bagni, si parlerà di questa cosa anche sotto monte, vedrete, limiti di velocità in vigore su tutto il lungomare e nelle traverse fino alla linea ferroviaria, questo è il limite, c'è naturalmente anche qui una rappresentazione per farvi capire dove saranno e come saranno divise le zone, torna la zona 30 intanto e quindi insomma per chi si deve reccare da quelle parti sa che ci sarà questa evenienza. Andiamo nelle pagine del resto del Carlino, in testa di pagina Banca Marche, Banca Marche che ieri Renzi ha annunciato che arriveranno i rimborsi, il decreto è approvato, uno dei truffati dice però, insomma, prima di festeggiare voglio vedere i soldi in tasso, insomma, prima di dire gatto, insomma, pensiamoci bene. Tragedia poi qui di spalla, stroncato da Lamartì, un altro appassionato ciclista, morto a 36 anni e poi fotonotizia per un professore di arte che si presenterà alle lezioni e invita tutti i suoi ex allievi con una lettera a dargli la preferenza il 5 di luglio. professore chiede voti e insomma addio anche a un altro personaggio storico, è un tipografo, aveva 82 anni, Sergio Montaccini, tipografo storico della città di Pesaro. Tassa dei rifiuti, insomma, non buone notizie per i cittadini pesaresi da questo punto di vista, tassa dei rifiuti cresce ancora e perfino la maggioranza è critica sull'1,5%, le opposizioni dicono giunta succube di Marche Multiservizi e anche signorotti del PD, appunto dice ci avevano detto che le tariffe sarebbero diminuite e invece sono aumentate dell'1,5%. Banca Marche, appunto, ve lo facevo vedere nel lancio di pagina, crack delle banche, non solo Banca Marche, ma insomma anche Etruria e le altre, rimborsi, ma tante famiglie sono ancora incredule, spero appunto un risparmiatore di Cagli dice che le parole di Renzi diventino realtà, c'è un limite, attualmente il governo ha spiegato che l'80% verrà restituito a patto che il richiedente abbia un reddito lordo inferiore ai 35.000 euro, ma nel caso di questo risparmiatore non ci siamo, aveva investito più di 300.000 euro il padre e poi a un mese della scadenza nel dicembre del 2005 una lettera gli comunicava che nel conto non c'era più niente, insomma questa è la disavventura sua e quella anche di tanti altri piccoli risparmiatori che insomma si sono visti a zerare i risparmi di una vita. Allora, fanno la pagina del carlino, letti, fornelli ed elettronica, così si bivacca in casa Bartali, la polizia sgombra i locali e fa murare gli ingressi, gli ingressi appunto, i varchi che erano stati praticati nei muri da coloro che avevano occupato abusivamente l'edificio, un viavai notturno segnalato più volte dai residenti di quella zona, vedete uno scorcio di quello che c'era all'interno, è un sito all'attenzione del comune questo perché vorrebbe realizzarsi appunto una struttura, una coverciano per la nazionale, cantanti che appunto è stata presente per la partita che insomma avete visto tutti, grande successo e ieri c'è stato apposto appunto per coronare questa bella iniziativa, la consegna dell'assegno dalla nazionale cantanti proprio alle due associazioni ed ecco qui Fanesi, brava gente, lo dice uno dei insomma partecipanti storici a queste partite, Paolo Belli, ex latri di biciclette, ora maestro di ballando sotto le stelle, che non era presente proprio sabato la giornata della partita proprio perché è impegnato nelle registrazioni, qui vedete appunto la consegna dell'assegno, qui sono 27.380 euro però insomma sono di più perché si arriva a 30.000 perché insomma uno dei promotori di questa iniziativa appunto il titolare del ristorante Puntiron che vedete appunto qui nell'immagine ha organizzato delle cene appunto di beneficenza e qui insomma si è arrivati a donare a queste due associazioni Onfalos e Adamo, la bellezza di 30.000 euro che andranno a rimpinguare le loro casse e potranno essere spesi per i loro progetti, quindi una bella pagina di solidarietà, tutto orgoglio naturalmente fanese. Allora la pagina del messaggero parte dall'inserto che riguarda Pesaro, appunto in testa rifiuti, la bolletta sarà più salata, a Sant'Angelo Invado arriva la criminologa Bruzzone che sarà a fianco della mamma di Ismaele, fotonotizia centrale appunto vedete la consegna del plico che è insomma qui evidenziato, qui insomma c'è tutto il pacchetto di firme raccolte dalle sette sigle. Tir tradito dal navigatore resta bloccato a Carignano, l'autista è un bulgaro che è stato praticamente tradito dalla strada consigliata dal navigatore e lui praticamente ha seguito il percorso ma si è praticamente trovato in un cul de sacche e non è riuscito più a venire fuori. Il meteo, nuvole e pioggia, questa è la salomonica di Dascalia di Massimiliano Fazzini e poi ecco la criminologa Bruzzone a fianco della mamma di Ismaele Lulli, omicidio Lulli, nota criminologa nominata consulente dalla famiglia della vittima fissata, l'udienza preliminare. Il 27 maggio sarà una data spartiacque che separerà le sorti di Iglimeta e di Mario Mema accusati della morte del diciassettenne e insomma quindi seguiremo anche l'evoluzione di questo processo del quale vi abbiamo sempre dato ampia cronaca e ampiamente insomma nella nostra pagina del telegiornale. C'è stata sempre grande attenzione per questo episodio così cruento. Pagina di Fano, l'ultima che vi faccio vedere, anche qui insomma in centropagina la consegna delle firme, Seri accetta l'invito e si presenta la manifestazione. Ieri sera in piazza 20 settembre tutto il comitato che non ha parlato per ogni singolo rappresentante ma ha parlato per voce unica di questo ragazzo, un giovane studente di giurisprudenza fanese a Milano e hanno deciso di affidare alla sua voce insomma discorso per questa raccolta. Vedete la piazza con i quasi 300 partecipanti alla consegna delle firme e appunto la Ricciatti, persino il codice degli appalti blocca il project financing avanzato da Ceriscioli per Fosso Segliore, questa è la considerazione dell'onorevole e poi un'altra cosa che vi volevo far vedere, le unioni civili strappano consensi trasversali, il Consiglio Comunale approva anche la proposta sulle interruzioni volontarie di gravidanza. Questa era l'ultima pagina che vi facevo vedere per la segna stampa di questa mattina che tornerà naturalmente lunedì mattina alle 7.30 puntualmente. Grazie per essere stati in nostra compagnia e vi auguro buon fine settimana, tempo permettendo e buon primo maggio a tutti. Alle prossime!